Desidero ringraziare sentitamente quanti hanno contribuito all'organizzazione e gestione dell'evento odierno e penso di interpretare il pensiero di voi tutti nel ringraziare Ignacio Socias e lo staff dell'IFFD per il grande lavoro svolto non solo oggi ma per quanto hanno fatto in questi mesi. Mi complimento con la loro bella newsletter che l'IFFD realizza settimanalmente dandoci informazioni e consigli preziosi anche su aspetti spesso trascurati dai grandi mass media ma che sono importantissimi per la nostra vita quotidiana. Un ringraziamento sincero anche a Uninove per l'attenzione con cui sta seguendo il nostro progetto e per il coordinamento accademico. Infine un sincero grazie a tutte le città e regioni e le associazioni che con il loro lavoro stanno realizzando strumenti e attività per dare concretezza a quanto contenuto nella dichiarazione di Venezia. I miei complimenti alla carinzia che ha ricevuto quest'anno il riconoscimento dell'IFFD per l'impegno nel rendere la loro regione la più amica dei bambini e delle famiglie in Europa. Il premio che appunto l'IFFD è legato agli obiettivi di sviluppo sostenibili individuati dalla dichiarazione di Venezia. L'esempio della carinzia è importantissimo per noi tutti. Grazie a voi tutti e grazie anche al network ELISA abbiamo avuto la conferma che la dichiarazione di Venezia è stato un documento di straordinaria importanza, capace di individuare con largo anticipo temi e problematiche che proprio durante la pandemia hanno dimostrato la loro centralità nell'azione di contrasto e cura al Covid-19. La famiglia è stata la grande protagonista di una sfida epocale che non aveva alcun precedente nella storia dell'umanità. Se il tessuto sociale non si è disgregato con danni e ripercussioni inimmaginabili lo dobbiamo proprio alla famiglia, centrale nella cura della malattia ma anche nella gestione della vita di tutti i giorni. I giorni difficili del lockdown, quanto per la prima volta chiusi in casa, tanti hanno sperimentato il lavoro da remoto grazie a internet che ha consentito, seppur con grandi limiti, anche la didattica a distanza per la formazione dei nostri giovani e a ben guardare è stato un risultato eccezionale. Con questo non voglio certo sminuire lo sforzo incredibile sostenuto dal sistema sanitario di ogni paese ma medici, infermieri e volontari, uomini e donne che ovunque si sono sacrificati in maniera straordinaria. Se quella contro il Covid è stata una guerra, loro sono stati i nostri eroi. Ma bisogna anche sottolineare che la famiglia ha dimostrato la sua centralità imprescindibile e ribadisco che il mondo post-Covid deve rinascere attorno alla famiglia. La famiglia è la solida base di quell'edificio che chiamiamo società e ciò vale in tutti i continenti, in tutte le diverse realtà culturali del nostro mondo. La dichiarazione di Venezia, con i suoi punti, è rimasta di grande attualità e io credo che essa possa costituire la base per un confronto serrato attorno alla ricostruzione. Dobbiamo condividere buone pratiche, ampliare la riflessione sugli strumenti che bisogna mettere in campo per dare ulteriore concretezza alle azioni indicate dalla nostra dichiarazione, aprendo sempre più il coinvolgimento di nuove regioni e città al nostro gruppo di lavoro e la mia speranza che il nostro gruppo di lavoro possa allargarsi sempre più a realtà del continente asiatico e anche all'Africa. Una indicazione che esce dalla giornata odierna, come da quanto accaduto nei mesi scorsi, è la necessità di organizzare un importante momento di approfondimento sul modello di quanto sperimentato a Curitiba. Appena sarà possibile, dobbiamo ritrovarci assieme e assieme immergerci in più giornate di lavoro per fare il punto della situazione e ripartire di slancio dalla nostra azione. Pongo come primario l'obiettivo di una riunione in presenza, perché è fondamentale poterci incontrare e assieme politici, amministratori locali, tecnici, ricercatori e università fare il punto della situazione, capire quali sono stati i limiti, quali sono stati gli errori, ma anche quali sono stati i punti di forza grazie ai quali l'umanità ha superato una prova epocale. La famiglia e l'abitazione sono stati due elementi chiave, proprio per questo diciamo che le città e l'economia devono essere al servizio della famiglia e non viceversa. L'economia e l'impresa hanno esigenze ben precise, ma solamente una finanza, un'economia e un profitto legati all'etica possono garantire la centralità dell'essere umano e della famiglia. Famiglia e persone infatti devono essere il fine tanto della finanza quanto dell'economia come del profitto. La rinascita post-covid parte dalla famiglia, dal rafforzamento di una società più sana, libera e solidale, con autodisciplina, senso di giustizia, onestà, moderazione, rispetto della dignità umana, con solide norme, innanzitutto per preservare in economia la concorrenza e il mercato da ogni degenerazione, difendere l'ambiente, evitare sprechi inutili e fare in modo che veramente nessuno sia lasciato solo, nessuno sia lasciato indietro. Se diciamo che la famiglia è il perno della rinascita, dobbiamo anche dire che la famiglia e la casa non possono trasformarsi in prigioni o luoghi di tortura. Non dobbiamo dimenticare che per troppe persone, troppe donne, ragazze e persino bambine, la casa è il luogo di uno sfruttamento inaccettabile, dove talvolta si consumano violenze incredibili e dove quasi sempre si registra una disparità di genere insostenibile. Gli studi dimostrano che le donne hanno il maggior carico di lavoro domestico e di cura e sono le più infelici, ma provano anche a garantire una maggiore serenità per la famiglia, non una divisione al 50% del lavoro tra le parti, bensì una distribuzione che tenga conto della volontà, della disponibilità e delle capacità di entrambi i genitori. Per questo è necessario che la società ripensi al modo di intendere la famiglia e la genitorialità, aprendosi a una nuova idea di comunità e offrendo strumenti concreti per conciliare vita e lavoro di tutti, e non solo delle donne. Io credo che queste considerazioni siano implicite nella dichiarazione di Venezia, ma a maggior ragione noi oggi, sulla strada della costruzione del mondo post-Covid, dobbiamo rilanciarle. Mi scuso se ho parlato troppo a lungo, ma abbiamo tante cose da dirci, abbiamo tante idee su cui confrontarci. Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi e vi assicuro che non vedo l'ora di incontrarvi di nuovo tutti. A voi tutti, dai vostri cari alle vostre famiglie, un grande abbraccio, un vero in bocca al lupo per i mesi a venire.